Siamo nel laboratorio pasticceria di eccellenze per campane con il pasticcere Gennaro Maiello. Buongiorno Gennaro. Buongiorno. E allora si avvicina l'estate, dobbiamo fare qualche variazione per rendere più fresca, più appetitosa quello che è un classico della nostra pasticceria, ovvero la sfogliata riccia. E allora che cosa hai pensato di fare? In che modo possiamo renderla un pochino più fresca, un pochino più estiva? Allora abbiamo abbinato...